Roberta Zuchinetti assessora allo sport del comune di Alassio, Alassio diventa capitale delle bocce quindi grande spazio, grande sport a tutti gli sport e tanto anche spazio per Alassio e per i turisti che possono arrivare abbiamo contatto che saranno tantissime presenze nel fine settimana con la Final Four e soprattutto poi con la Targa d'Oro che ormai è un evento a livello mondiale che porta tantissime persone in Alassio e questo sicuramente serve tanto soprattutto per l'economia cittadina. Quindi lo sport come vetrina per una città che continua a tirare col suo fascino? Sì, diciamo che stiamo puntando sullo sport per riuscire a portare sempre più persone in Alassio sicuramente.